Con l'avvicinarsi dell'inverno le batterie saranno sterminate ovviamente dalle automobili dunque se la vostra batteria ha cominciato a dare segni di cenimento forse anche per brevi periodi di sosta è meglio staccarla per evitare morte certa come fare per staccare la batteria in modo sicuro si deve staccare il polo negativo per evitare accidentali cortocircuiti del polo positivo con qualsiasi parte della carrozzeria o del motore se la vostra auto è di ultimissima generazione probabilmente staccare la batteria non è un'ottima idea in quanto potrebbero esserci dei sistemi di sicurezza che al riavvio potrebbero impedire l'accensione del mezzo l'obiettivo è quello di staccare il polo negativo isolarlo e stabilizzare il morsetto del negativo prendo un tubo di gomma lo taglio opportunamente l'obiettivo è un'ottima idea inserisco il cappuccio del polo positivo incollandolo con del mastico l'obiettivo è un'ottima idea 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 l'obiettivo è un'ottima di quel l'obiettivo è un'ottima idea l'obiettivo del tutto con una fascetta da elettricista Sincronización Andrea Oroz Si stacca il polo negativo Si inserisce il cappuccio e vi si adagia il morsetto in modo da incastrarlo per bene Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose eventualmente occorsi a chi decidesse di imitare il video che ha scopo di puro intrattenimento Aspetto i vostri commenti i mi piace e le iscrizioni al canale Ciao